Argomento del giorno, come tutti sappiamo, le elezioni in Abruzzo. Esito, a mio avviso, non particolarmente sorprendente. Certo, può stupire un po' lo scarto tra i voti della Lega e quelli del Movimento 5 Stelle, io prevedevo più un testa a testa intorno al 24-25%, invece ha preso qualche punto in più la Lega, qualche punto in meno il Movimento 5 Stelle, ma insomma niente di eclatante. Quindi il risultato è che la Regione è passata da un'amministrazione del PD a una del centro-destra, che era più che ampiamente prevedibile. I nostri analisti politici, i nostri giornalisti della TV e della carta stampata hanno subito cercato di estendere questo voto a livello nazionale, ma facendo, a mio avviso, un errore clamoroso. Si deve per forza sottolineare che il voto locale, il voto regionale, proprio per la tipologia del voto, penalizza enormemente il Movimento 5 Stelle, che sapete non vuole fare accordi con alcun altro partito e quindi di questo bisogna tenerne conto, anche se obiettivamente, un po' anche per i sondaggi, eccetera, così, si dovrebbe forse pensare che in questo momento la Lega è visto, rispetto al Movimento 5 Stelle, un po' come il partito più del cambiamento, diciamo. Comunque, ovviamente non mi sottrago a una mia analisi sul voto, e la mia analisi sul voto parte da dare una risposta alla domanda che cosa hanno detto gli elettori abruzzesi, a chi si vogliono affidare? Gli elettori abruzzesi innanzitutto hanno detto un'altra cosa, però l'hanno detta in miracchiara ed inequivocabile, hanno detto a chi non si vogliono affidare, non si vogliono più affidare ai vecchi partiti che li hanno governati negli ultimi 25 anni e che oramai sono diventati dei partiti residuali, mi riferisco ovviamente al Partito Democratico e a Forza Italia. Poi, invece, probabilmente attribuiscono alla Lega una maggiore consistenza, magari pensano che in Europa possano farsi sentire di più i leghisti che qualche alleato ce l'hanno, piuttosto che il Movimento 5 Stelle che sembra un po' più isolato. Detto questo, ricordiamo anche che il Movimento 5 Stelle ha comunque più o meno ottenuto i voti che aveva avuto alle scorse elezioni, quindi non vedo un crollo, non vedo un tracollo del Movimento 5 Stelle anche nelle prossime elezioni. Sembra appunto che gli elettori abbiano ancora pazienza, nel senso non scendiamo in piazza come i gile gialli, anche se, attenzione, la manifestazione dei pastori sardi, insomma, gettare il latte per terra, per strada, eccetera, così, se fossi un politico non la sottovaluterei, è un gesto da ricordare, ma è quello del latte, è un problema come quello di tanti altri prodotti dell'agricoltura che ci riporta immediatamente all'Europa, cioè quello che occorre dire, noi italiani avremo anche tanta fiducia nelle elezioni europee, ma sappiate che se non si cambia l'Europa da questa situazione non se ne esce, non ci fa uscire Salvini, non ci fa uscire la Lega, l'unica cosa è che dobbiamo uscire noi dall'Europa per risolvere i nostri problemi. Detto questo arrivo a un'altra cosa che assolutamente voglio dire oggi, non c'entra con le elezioni dell'Abruzzo, ma una brevissima premessa, come sapete lo ripeto sempre, ma meglio ripeterlo una volta in più, non appartengo a nessun partito politico, non sono mai stato iscritto a nessun partito politico, eccetera. Quando faccio i miei elogi e le mie critiche a personaggi politici sono sempre elogi e critiche su alcuni fatti specifici, mai sulla persona, mai sul partito. E allora permettetemi oggi di fare un elogio ad una persona che invece recentemente avevo criticato, cioè Alessandro Di Battista, allora dico grande dibba, grandissimo dibba, perché finalmente c'è stato qualcuno che dai nostri schermi televisivi ha avuto il coraggio di dire ciò che la stragrande maggioranza degli italiani pensa, ed ossia che l'allora nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si comportò nel 2011 quando la Francia attaccò la Libia, si comportò, ripeto la parola di Battista, come un vile. Perché ricordiamo, la Francia attaccando la Libia nel 2011 è come se avesse attaccato l'Italia. L'ho già detto nel mio scorso video, lo ribadisco in questo. Prima del 2011 il nostro interscambio con la Libia, l'interscambio Italia-Libia era di 14 miliardi di dollari, oggi è di soli 3 miliardi di dollari. Quindi i francesi nella realtà hanno attaccato gli interessi nazionali. E allora chi ha permesso questo scempio avrebbe dovuto risponderne davanti al popolo italiano.